Dì, dì... Marco, io ho parlato per l'occa. Ma però io ho parlato. Signor? Sì. No. Guardi, 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 guardi. Guardi, guardi, guardi. Guardi, guardi per favore, avvicinate, guardi, Paolo Arco. Voi due sei prattento. Tu, per quella faccia. Avvicinati. avvicinateli a parte avvicinateli avvicinateli quando non andiamo avanti perché mi sono detto come non è basta non lo dici tu allora grazie 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 non vado bravo bravo